Il pianista e musicista grigentino Salvatore Galante, già protagonista tra l'altro su Teleacras della trasmissione Viva la musica e ospite per una settimana i fatti vostri, il celebre programma Rai. Ascoltiamo dunque lo stesso Galante al telefono di Davide Saia. Salvatore Galante che è già partecipato con noi a Viva la musica su Teleacras, adesso per una settimana farà un'esperienza ai fatti vostri su Rai 2, un'esperienza appunto che lancia nuovi talenti, giovane proposte musicali dei conservatori d'Italia. Ecco Salvatore, parlaci un po' di questa esperienza che stai vivendo. No, è sicuramente una proprietà di domande esperienze. Io avevo già partecipato a settembre e ho avuto questa bella sorpresa, questa nuova chiamata della Rai e quindi sarò tutta la settimana. L'onore di essere accompagnato dal maestro Demo Morselli è veramente un privilegio. Quali altri progetti per adesso stai curando? L'attività concettistica è sempre in primo piano, spostandosi in diversi posti, ho fatto anche delle cose all'agrigento. Per ora si spera in un risvolto di questa esperienza qui a Rai 2. Ecco, allora ricordiamo per chi volesse seguirti, come e quando soprattutto? Guarda, io sono qui da lunedì, sono in diretta, andrà avanti fino a venerdì, è una settimana. Tutti i giorni, verso le 12 meno un quarto, c'è questa rubrica che c'è questo momento musicale, ci sono io al piano, è l'orchestra, è il Marcello che canta. Saluto tutti, mi fa piacere che gli agrigentini mi seguano. Grazie, grazie tante. Vieni Salvatore a raccogliere l'applauso che ti meriti.